Di fatto si è rivelata la sovrapposizione di tre emergenze estremamente critiche. C'è una caduta eccezionale di neve, protratta nel tempo, che si è stratificata, si è ammassata. Un evento sismico non registrato sicuramente da molti, molti, molti anni. E il blackout tecnologico ed energetico. Per gli animali si sta rivelando una criticità estrema, tenuto conto che tuttora è difficile raggiungere persone che hanno bisogno di assistenza e che non sono in grado, talvolta nemmeno di raggiungere a pochi metri, l'alimentazione che potrebbero somministare gli animali. I dati sono solo relativi, evidenze che abbiamo, agli allevatori che hanno potuto, come perché collegati, segnalare determinate necessità. Voi avete un numero di emergenza? Sì, è stato istituito un helpdesk che è attivo dalle 8 di mattina alle 20, tutti i giorni. 8-0-0-0-8-2-2-8-0 da rete fissa, 0-8-6-1-33-25-00 da rete mobile, tutti i giorni inclusi ai festivi, dalle 8 alle 20. Se c'è la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica si può scrivere a iubene, i-u-v-e-n-e-chiocciola-izs.it